Adoro te, fonte della vita, i miei calzari leverò su questo santo suono, alla presenza La tua vita, i miei calzari leverò Per trasmettere la signora Rosa che gestisce il mio sito e quindi può permettere a tutti quanti voi di entrare in comunicazione con questa trasmissione Oggi siamo nel venerdì, che noi chiamiamo venerdì santo, ma cominciamo a togliere dalla testa questo odore del dolorismo Questi immagini strazianti dei nostri riti che purtroppo vengono dal 1600, dalla devozio moderna Già Matteo, domenica scorsa, con quel affecentopneuma, lasciò andare lo spirito Ci ha ricordato che in realtà Cristo trasforma anche la morte Nella morte egli ci dà la vita Certo, è morto realmente, non all'apparenza Altrimenti davvero non siamo in quello che è l'albero cattolico della teologia Ma questo non significa far della morte l'ultima parola L'ultima parola non è della morte Anzi, nella morte già domenica Matteo ci ha detto che Gesù lascia andare lo spirito Quindi come una donna che con le doglie del parto lascia andare, nasce, far nascere il figlio, la figlia Così Gesù nell'ultimo atto estremo, che è il momento della morte, lascia andare lo spirito Oggi è il giorno della passione gloriosa di Giovanni Non dimenticate questo aggettivo, passione gloriosa, passione d'amore Perché Giovanni ci aiuta a leggere nel profondo ciò che è avvenuto Ci offre in un certo senso ancora di più, essendo l'ultimo che scrive, la chiave di lettura di ciò che è avvenuto E qui il dato fondamentale, cari amiche e cari amici La croce è la gloria di Dio Gloria in Giovanni significa, doxa, presenza La croce è la presenza suprema di Dio Una presenza luminosa, anche se gli occhi degli uomini la vedono a volta dalle tenebre Forse siamo anche noi, come quei giudei dell'episodio del cieconato Che credono di vedere, ma in realtà non vedono Come è strutturata questa passione? Oggi davvero quel rito meraviglioso, unico nell'anno Bisogna viverlo davvero con molta intensità Invece spesso, direi, i riti devozionali sovrastano e cancellano la bellezza di questa liturgia Nella quale noi abbiamo quattro grandi temi Perché la passione gloriosa di Giovanni ci mette davanti questi quattro grandi pilastri L'ora, che aveva già anticipato a Cana L'innalzamento sulla croce, che ha un duplice significato Gli eventi escatologici, cioè il compimento della storia della salvezza E poi la regalità di Gesù sulla croce Tema veramente interessante Perché tutto il quarto Vangelo è attraversato dal tema dell'ora Che va scritta con la O maiuscola L'ora, cioè il momento in cui si compie tutto il mistero del padre Questo matrimonio, così come Gesù viene descritto come sposo dell'umanità Che è sulla croce E anche l'innalzamento, che evidentemente è usato con un doppio termine Innalzare significa mettere sulla croce Ma significa anche, in realtà, che lui viene intronizzato Cristo regna dalla croce Il tema del compimento degli eventi Cioè la croce è il momento croce gloriosa in cui Gesù rivela e porta a compimento il progetto del padre E poi la regalità di Gesù Tema bellissimo Cristo regna dalla croce Lui che ieri ci ha fatto notare la lavanda dei piedi Gli uomini vedono il supplizzo della croce come quella tortura e quella morte che gli hanno dato Ma in realtà Gesù ha scelto di entrare nella morte per vincerla Nella morte lui vince, riceve e dona la vita definitiva Lui è la parola del padre E le grandi parti della meditazione che oggi la Chiesa ci offre Nella passione secondo Giovanni Il quale non parla nemmeno mai di orto Attenzione Perché la passione gloriosa si apre nel giardino e si chiude nel giardino Vi faccio anche notare che c'è un'atmosfera serena, profonda Si chiude così la scena profonda con Nicodemo e Giuseppe di Arimateo come vedremo fra poco E tutto è sereno, tranquillo C'è un senso di attesa Domani vi commenteremo anche il sabato del silenzio Siamo alla vigilia di quella Pasqua nella quale poi canteremo l'alleluia Bene, nella prima parte della passione Capitolo 18 di Giovanni, versetti 1-11 Vediamo spesso il confronto tra il bene e il male Tra la luce e la tenebra Attenzione al singolare Gesù si consegna Attenzione a quei titoli anche nelle Bibbie Non viene arrestato Nel quarto Vangelo Gesù si consegna E come Davide attraversò il Cedron inseguito da Assalon Che voleva usurpare il trono del padre Qui c'è Giuda Giuda l'Ischeriot, l'uomo di Keriot Colui che poi lo consegna Giovanni usa questo verbo Lo consegna Il giardino fa anche pensare al giardino di Genesi Ricordate, Genesi 2-8 Ma anche il giardino del Cantico dei Cantici Giuda arriva con un distaccamento di soldati e di guardie Pensate, oltre 600 guardie Armate però in un modo strano Torce, lanterne e armi Ricordatevi che il quarto Vangelo è molto ironico Qui c'è un'ironia Portano le lanterne, le torce Davanti a colui che è il sole della vita Colui che è la luce del mondo È ironia Quasi a voler dire Che pensate di poter fare È lui che illumina noi È lui che guarisce quest'umanità Che è cieco, come il cieco nato Chi cercate? E Gesù risponde Loro cercano Gesù il Nazoreo E Gesù risponde Io sono Ego Eimi Che è una frase di rivelazione Come ha detto altre volte in queste domeniche della qualisima Io sono Ha detto alla donna samaritana e al cieco Io sono colui che ti parla Gesù è colui che porta il nome stesso di Dio Che è Dio Ecco perché davanti a questa rivelazione Come dicono i salmi Il salmo 55 Il salmo 9 Il salmo 26 Quel nome di Dio ha una potenza Di scaraventarli a terra E Gesù viene presentato anche come Quel pastore accorto Lasciate liberi i discevoli È così che inizia a dare la vita Simon Pietro Come abbiamo visto anche in Matteo domenica scorsa Da un uomo pratico Guardingo Un uomo davvero anche intelligente a questo livello Ha portato con sé una spada Non si sa mai Un luogo oscuro Non è che il giardino fosse illuminato Le città dell'epoca erano all'oscuro Porta quella spada in caso di pericolo Allora in quel momento la sguaina E taglia l'orecchio di un servo del tempio Che si chiama Malco Malco Non Marco Ma con la L Che viene da Melek Re Più il possessivo suo Il suo re Gesù È il re anche di questo poveraccio Ecco perché Gesù gli riattacca il lobo In Matteo ha detto domenica Chi di spada periferisce Di spada perisce Non è la spada Non è la violenza Che risolve le cose Gesù è un non violente Dobbiamo entrare anche noi In questo cammino d'amore Perché Chi perde la propria vita La guadagna Ecco gli ossimori Continui Del Vangelo La seconda parte È l'interrogatorio di Gesù Davanti alle autorità di Israele Anna Diminutivo di Anania Era il sommo sacerdote emelito Ma la veramente critica E dall'altra parte Il vero sommo sacerdote dell'epoca Che era Caifa Caifa è un nome strano Perché in realtà è un soprannome Lui si chiamava Giuseppe Però veniva chiamato Caifa Che significa la scimmia Come noi diciamo un burattino Nelle mani Lui si mette nelle mani dei più potenti Sa navigare tra i poteri C'è dietro di lui Certamente il sommo sacerdote Anna Lia C'è il potere romano Caifa sa destreggiarsi È un vero politico Più che un grande sacerdote Ne parla anche Giuseppe Flavio Nelle sue antichità giudaiche Ebbene C'è questo interrogatorio Sulla dottrina insegnata da Gesù Il quale spesso ha affermato Io sono Io sono Addirittura nel capitolo 8 Lo ha detto in modo assoluto Per ben quattro volte In nome di Dio Lui è Dio Ed è bella la scena Perché dentro c'è Gesù interrogato Dalle somme autorità religiose Fuori Nel cortile C'è Pietro A taglio di porta L'espressione Giovanni è meravigliosa Lui stava vicino alla porta Exo Dalla parte di fuori Quasi a dire Se succede qualcosa Se la fa Va via Scappa No? Poi invece È Giovanni che lo fa entrare Nel cortile È questa giovane portinaia Che lo interroga Tu sei uno di quelli E mentre Gesù dentro dice Io sono Fuori Pietro dice Io non sono È un'ironia anche questa Un po' amara Gesù ha il coraggio Di rivelare ciò che è Pietro Ha paura Io non sono Tre volte E qui l'evangelista Offre la scena amara Del tradimento Noi siamo Tutti come Pietro Un po' come Giuda E invece il discepolo amato Che dice il testo Era conosciuto Dal sommo sacerdote Quasi a volerci dire Che questo discepolo amato Era una persona Molto in vista Nel tempio Ecco perché Noi biblisti pensiamo Che possa essere Un levita Cioè un sacerdote Un uomo di studio Un uomo istituito Nella legge Pietro Contrapposto a Giovanni Pietro il pescatore Giovanni il levita Giovanni è anche il più Il più giovane Pietro forse sarà Il più anziano Si sta consumando Il tradimento L'evangelista Offre una scena Meravigliosa Perché Pietro Cerca vicino A quel fuoco acceso La notte È umida La notte È fredda Scende la temperatura Siamo a 800 metri Gerusalemme In alto Ma in realtà Anche questa È un'ironia Pietro ha un freddo Che gli nasce Nel cuore Gli nasce Dal tradimento Cerca di trovare Calore in quel fuoco Ma il freddo È dentro Si rende conto Che ha tradito Dentro invece Il povero Giosù Viene preso A schiaffi Questo schiaffo Che Giovanni Descrive come Il rapisma Col dorso Della mano Gesto violento Gesto di disprezzo Questo schiaffo Che indica La non accoglienza Delle autorità Religiose È un gesto simbolico Di rifiuto Sì La parola di Gesù È stata rifiutata Dai capi E quella guardia Diventa Suono al grado Il simbolo Di questo Rifiuto È Gesù È Gesù in modo Molto pacato Perché mi percuote Se sto dicendo La verità Perché mi percuote Dimmi dove sbaglio Ma non c'è risposta Come al solito E allora Inizia la parte Più grande Più lunga Proprio Come numero di versetti Siamo dal capitolo 18 Versetto 28 Andiamo fino al capitolo 19 Versetto 16 E la terza parte La parte importante Il dialogo compilato Questo uomo Che da una parte È un funzionario Che non ha mai fatto carriera Purtroppo si trova In quella provincia Disgraziata Della Giudea Che non ha mai Non ha mai capito Mai compreso Lui che non ha fatto carriera Anzi Poi sarà chiamato A Roma A rispondere Davanti all'imperatore Di concussione E in quei mesi Che lui mancherà Poi non tornerà più Verrà ucciso Stefano Con la lapidazione Proprio perché mancava Il procuratore romano Pilato è un uomo grezzo Un uomo attaccato al potere Ma abbiamo visto Che già in Matteo Quel simbolo Di lavarsi le mani È un gesto Non di Come dire Di non volerci Prendere le proprie responsabilità Ma al contrario Di dichiarare Che non si sentiva Veramente In potere Di dichiarare Che Gesù Era colpevole Lui si rende conto Come funzionario Romano Che le accuse Contro Gesù Sono accuse religiose Sono accuse Che riguardano Le tradizioni giudaiche Ma non riguardava Lui E abbiamo visto In Matteo Domenica scorsa Che la passione Di Gesù Comincia Con una donna Che lo unge E poi con la moglie Di Pilato Una pagana Che manda a dire Al marito Sta attento Non renderti responsabile Della morte Di questo giusto E lo chiama Giusto Gesù è l'innocente Gesù è il giusto La donna Lo ha unto Profeticamente Molto belle Queste scene Con queste donne Che assicurano La tenerezza La compagnia A quel Gesù Che invece è stato Lasciato dagli uomini Che lo hanno tradito Solo Giovanni Resterà Sotto la croce E il quarto Vangelo Ci mette avanti Questo confronto Tra Gesù E Pilato Che viene ad assumere Al di là Dell'aspetto storico Un aspetto emblematico Simbolico Siamo davanti Al rappresentante Dell'impero romano La potenza mondiale Dell'epoca Dall'altra parte Il povero Gesù Che viene accusato Di rivendicare Una regalità messianica Ebraica Che minaccia A Roma E quindi viene avvisato Dalle guide L'accusa è falsa È ovvio Però si fonda Su una motivazione Oggettiva La predicazione Del regno Sì è vero Gesù ha predicato Il regno Il regno dei cieli Dice Matteo Il regno di Dio Dicono gli altri evangelisti Regno Messia Messia significa Unto Quindi anche re Ma di fatto Sono termini Che possono essere Equivocati Presi Con la valenza Politica Mentre in realtà Sono termini Di un contesto Teologico Rivelativo E il fatto anche Che Rifiuti Il capo dei giudei Di entrare Nel palazzo di Pilato Per non contaminarsi Siamo alla parasceve Alla vigilia Della Pasqua ebraica Evidentemente Qui l'evangelista Si diverte poi In una scena Che è molto ironica Per cui Pilato È costretto A uscire Dal luogo Dove dentro Sta con Gesù E quindi Entra ed esce Sono sette volte Queste scene Che si ripercuotono Continuamente Con una sola volta Che non si ripete Quando Gesù Viene incoronato Di spine Viene incoronato Di spine Il re Che non è il re Di questo mondo Porta non la corona Sulla testa Ma ha quelle spine Proprio il centro Di questa scena Lui è il re Ma anche l'uomo Ecce omo Ecco l'uomo Quasi da parte di Pilato Dire Avete paura Di un uomo Ridotto così? Ma non è Un re In splendidi Vestiti L'abbiamo visto ieri Si è tolto le vesti Si è messo il grembiule Addirittura sulla croce Resterà solo Con quelle mutande sacre Per cui il dialogo Di Pilato con Gesù È proprio sulla regalità Di Gesù Che getta Davvero una luce Su tutte le situazioni Quando Anche noi Siamo tentati Dal temporalismo E dallo spiritualismo Attenzione Per noi cristiani È importante Riflettere Anche sul senso Della nostra secolarità Sul senso Del nostro rapporto Col mondo La Gaudium Spessa Ha fatto Veramente Scuola Dovremmo riprenderla in mano Questa Grande costituzione Del concilio Vaticano II Gesù ribadisce La trascendenza Del suo regno Rispetto al mondo Ma al tempo stesso Lui è venuto Per salvare Questo mondo E noi cristiani Non viviamo Al di fuori Di questo mondo Non abbiamo La mentalità mondana Non dovremmo averla Ma dovremmo amare Questo secolo Questa storia Queste persone Noi non siamo Dei nostalgici Con la testa girata Indietro Che vanno in avanti Ma ci rendiamo conto E nel colloquio Tra Giosù e Pilato Pilato Viene presentato Come una persona Confusa Non è all'altezza Di comprendere Certo Non riesce Nella sua insensibilità Religiosa A capire I motivi E della cultura giudaica E le risposte Di Gesù Fanno capire Che Egli non è Re Non ha ricevuto La dignità Regale Da questo mondo Quando lui dice Il mio regno Non è di questo mondo Vuole intendere In realtà La mia regalità Non mi viene Dal mondo Lui è venuto Per rivelare La verità Anzi Lui è La verità La rivelazione Del padre Per cui Chi lo ascolta E lo accoglie Entra nel suo regno Cioè Entra In quella logica Che è il padre Ecco perché Gesù Che è la verità Si presenta inerme Davanti agli uomini Nuda Anche vulnerabile Perché il verbo Si è fatto carne Dice il prologo Cioè Fragilità E c'è davvero Una grande ironia Quando poi Vengono contrapposti Gesù e Barabba Barabba è un nome Che significa In aramaico Barabba Figlio del padre Ma chi dedua Veramente il figlio Del padre Lo è Gesù Barabba è un bastardo È un Uno zelota È un Lestes Dice il testo Il testo greco Cioè È un terrorista Uno di quelli Che uccideva Con i pugnali Quello che si frapponeva Ai romani E c'è Una sorta di Grande ironia Chi è veramente Il figlio del padre Allora Nella quarta parte Il matrimonio Il compimento Della rivelazione Qui Gesù rivela Che cos'è la sua Regalità Pilato cerca in tutti i modi Di salvarlo Gioca anche la carta politica Di volerlo rilasciare Perché una volta all'anno Veniva fatto questo atto di Clemenza Ma poi questi gesti Lo fa sedere Sulla 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 sedia Del giudizio C'è ironia da parte di Giovanni In realtà Questo mondo Cerca di giudicare Gesù Pilato crede di essere Il grande rappresentante Del potere romano Ma in realtà Tutto gira Intorno a Gesù E alla sua Rivelazione Per cui È molto bello Questo capovolgimento Quella croce Che si sta presentando Come rivelazione Sì Gesù è il Messia Gesù è il re Ma non di questo mondo Non con quella logica Che ieri sera Abbiamo capito Perché lui Serve Questo è il vero Regnale Regnale E purtroppo La carta politica Segnata da Pilato Non porta a nulla Perché La gente Sobillata Dei capi Preferisce Barabba A Gesù E Pilato diventa Colui che Indirettamente Lo rivela re Lo ha rivelato Come vero uomo Ora rimettiamo Addirittura La titolazio L'ha scritto Sulla croce Gesù Il Nazoreo Re dei giudei E i giudei Si arrabbiano Devi dire Che lui Ha detto così Pilato dice Ghegrafa Ghegrafa Ciò che è scritto È scritto Basta Non c'è più Niente da fare E vedete come La logica Providenziale Di Dio Si serve anche Di Pilato In Giovanni Nel quarto Vangelo Dio è il protagonista Gesù è il protagonista Cosciente Di tutto quello Che avviene Perché deve esserci Un compimento È molto bello E allora anche La scena Sotto la croce La tunica Che non viene divisa Segno dell'unità Dei cristiani Molto bella No? Come sarà poi La rete Nella pesca Miracolosa E poi soprattutto Il testo Fa vedere Questa scena Meravigliosa In cui Su quella croce È il pane di vita Sotto la croce È nata la comunità C'è la madre C'è il discepolo amato E le altre Tre donne Abbiamo cinque discepoli Sotto la croce Ma questa volta Rispetto all'inizio Che erano cinque maschi Qui c'è solo Giovanni Come maschio Poi c'è la madre E le altre tre donne Tra cui Maria di Maria la sorella E poi c'era Soprattutto Maria Maddalena Che ritroveremo Nella domenica Di Pasqua Quindi Quel Gesù Che prendendo Il vino acetato Quindi lo prende Non è La sostanza dopante Come Nei Vangeli Sinottici Dopo aver preso Quell'aceto Chi nato il capo Consegnò Lo spirito C'è una scena Matrimoniale Cioè Ancora più di Matteo Giovanni Fa vedere Che il gesto finale Di Gesù È dare Lo spirito Che è l'amore Che è la vita Fiumi di acqua viva Da quella ferita Della trasfissione Esce sangue d'acqua Eucaristia e battesimo Ma in realtà È un simbolismo Per dire davvero Gesù Ci dona Il suo spirito L'ho detto Io devo andare via Per darvi Un altro Paraclito Per cui È veramente Interessante È anche l'ultima parte Interessante Della sepoltura Dove troviamo I due discepoli Nascosti Giuseppe di Arimatea Questo grande Notabile Che offre La sua tomba nuova E Nicodevo Che ritorna Avevamo visto Al capitolo 3 Al capitolo 7 Ora ritorna Ma non parla Non viene più di notte Ma viene portando Addirittura 50 litri di profumo Bisogna ungere Quella tomba nuova Perché è una tomba Regale Ma non di re Di un re di questo mondo Ed è bella Questa scena Finale Quasi Chiudere in modo Che una tomba chiusa Poi diventerà Un memoriale Aperto Aperto Perché la Pasqua Ribalta quella pietra Della morte Della chiusura Di questa mondanità Noi pensiamo Di aver sempre messo L'ultima parola Ed esce La realtà Della resurrezione Che è un andare Oltre la morte Distruggendo la morte Gesù ha pianto Su quella morte Davanti al sepolcro Di Lazzaro Di quella morte eterna Che i due uomini Si scelgono Dio vuole La vita Ecco perché I grandi concili La chiesa Hanno sempre affermato Deus passus es Dio ha sofferto Sì Dio ha sofferto Ma nella croce Ha voluto darci La sua vita Paredo Kentopneuma Ci ha consegnato Lo spirito Lui È lo sposo Di questa umanità Riottosa Di un'umanità Che ha bisogno Di questo matrimonio Sì La conversione Inizia dall'atto D'amore di Dio È l'atto D'amore di Dio Del padre In Gesù Cristo Che sulla croce Ci offre lo spirito A dichiararci Fino a che punto Il padre ci ama Quell'amore È la nostra salvezza Ecco perché Noi Dobbiamo Imparare A stare con Gesù Nella vita Come nella morte E lasciar passare Lo spirito Perché lo spirito È l'amore stesso Del padre amante Che ama il figlio Che è l'amato Che dalla croce Ci offre lo spirito Perché questo amore Ci umanizza Ci ricostituisce E soprattutto Davvero Ci rende Veri uomini E vere donne Buon venerdì santo Segui davanti a me Un Signore Segui davanti a me Nella tua grazia Trovo la mia gioia Io lo do Ringrazio e prego Che è Il mondo Ritorna a vivere In te